ci illustri un po le caratteristiche di questo volo bella come caratteristica cominciate Roberto è un volo del Kaiser è bravo ah si? cioè vuoi vedere il caucaso? decollando di qua devi praticamente a girare questo costone portarti lì sul largo e c'è da fare un bel circuito allora vediamo un po' vediamo un po' bene ma non di coppia praticamente il decollo sarebbe questo giusto? si perchè qua c'è il vento come in mano e scusa se vai là infatti guarda un po' che anche adesso c'è il vento frontale guardami un po' scusa eh un attimo solo che sto inquadrando l'atterraggio questo è il volo con l'atterraggio questo prato silenzio che sto registrando a fianco del di Gandolfo Sport che ora poi inquadreremo quando andiamo giù sono 545 metri di disliver non ci arrivi allora laggiù? allora inquadriamo un po' un attimo è un volo per amarti delle forti emozioni tu proponi di partire da questo punto che sto inquadrando in questo momento o al limite dove c'è le pecore ci sono sempre? non le vedo ah eccole là sì al limite da questo prato qua ci andiamo un po' fino lì? sì possiamo arrivarci e continuare la discesa in questa valle il problema principale è questa linea che vediamo in questo momento bisogna passare sopra questo traliccio praticamente che sei direttore e poi si continua in questo modo e si arriva poi verso l'atterraggio ma il deltaplanista ha visto dove atterrano? dove decodano? di qua io l'ho visto partire lì mi dovrebbe avere un po' chiara la situazione dei fili soprattutto là sotto poi senza la metà mondiale per il fatto è venire di qua dove? la sotto qua? e lì bisogna cercare di portarsi subito all'argo subito nella ballata ti porti laggiù e basta sopra l'acqua direzione di Elche sopra e poi vai verso l'atterraggio vedi cosa succede mi portai sotto sempre più difficile dalla Bocchetta a San Rocco e da Creta a San Rocco ma poi si inizia a fare la caduta no senza mani senza piedi poi senza testa e questo invece è il decollo vicino all'atterraggio questo è il volo è in località Terra Rossa vicino a Statale Gandolfo negozi di articoli sportivi c'è l'atterraggio questo è l'atterraggio l'unico problema è il cavo che Raffaele è stato toccando in questo momento che parte di lì e si alza e sparisce nel bosco è un cavo che bisogna far eliminare per rendere utilizzabile l'atterraggio l'atterraggio a a 받ro a a a a a a Grazie a tutti